I più eclatanti di questo 2016 si sono verificati a pochi giorni di distanza. Nel mezzo ce ne sono stati altri, magari di minore entità, ma non certo per il disagio e la rabbia delle vittime, che sono sempre gli stessi. Parliamo dei furti in appartamento ed in particolare nelle ultime settimane in villa, nel territorio della provincia di Arezzo. I più importanti, quello del 13 gennaio scorso a Cognaia, periferia di Arezzo, bottino da 100.000 euro, una parte del quale persino perso per strada. E l'assalto in villa, di poche ore fa a Citerna, dunque in Valtiberina, ai danni di un noto imprenditore monterchiese Fabio Festini. I ladri hanno distrutto il sistema di allarme di velto la cassaforte e l'hanno portato via per le scale avvolta in un piumino. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Monterchi, ma è fin troppo chiaro che la lotta tra guardia e ladri è impari, a discapito di una tranquillità che ormai è una chimera. E' certamente un fenomeno che è sotto la nostra lente, anche alcuni fatti attuali lo dimostrano con un intervento che verrà reso noto quanto prima, operato da altra forza di polizia, ma che comunque testimonia il grande impegno. Ripeto, qua ci sono due filoni importantissimi, i furti che a volte si tramutano in rapine, e il fenomeno della droga. Sono due aspetti di una problematica che noi cerchiamo di contrastare con ogni... sui furti c'è più difficoltà, perché molte volte si opera in quartieri isolati, dove si vive bene, da un lato, in tranquillità, ma c'è anche la possibilità di agire a volte indisturbati. E in questo dobbiamo fare tutti quadrato, perché serve veramente la massima attenzione e la collaborazione di tutti. Grazie a tutti.